E pertanto sotto indagine l'impianto industriale di Laterizzi incontrato a Pianocatta da Grigento, onorevole Sodano. Stanno procedendo i lavori delle autorità competenti e noi di ciò ne dobbiamo dare merito. Io ringrazio obiettivamente l'intervento delle autorità giudiziarie, delle forze dell'ordine, dell'ARPA, con augurio che la loro azione possa risolvere una questione annosa, problematica, che ha causato tanti danni agli agrigentini. Dobbiamo sancire in principio che non si devono più commettere eco-reati nel nostro territorio. Ne va della salute di tutti e anche del valore del nostro territorio, anche in termini economici. Però, oltre a questa faccenda, le autorità giudiziarie stanno andando avanti. L'altra questione spinosa che ho sollevato attraverso le indagini che ho portate avanti riguarda il fatto che l'assessorato regionale all'ambiente, nella giunta musumeci, ha smantellato, caro Angelo, i laboratori di analisi di mezza Sicilia, tra cui Agrigento, che oggi non ha più un laboratorio di analisi dell'ARPA. Questo me lo dicono i dipendenti dell'ARPA, i funzionari, persone che ho trovato veramente preparate, che oggi ci dicono che analisi fondamentali che prima venivano fatte nel territorio, dal 15 gennaio non si possono più fare. Per esempio, ad oggi Agrigento non è dotato di un laboratorio che può permettere di controllare le acque che escono dai depuratori dell'acqua. E tante volte si è scoperto che c'era il batterio Escheriacoli, tutte situazioni dannose per la nostra salute. Ecco, per quale motivo la regione smantella dei presidi di controllo ambientale fondamentale in una materia che è fatta e anche soggetta alle comafie. Allora, questo è quello che voglio dire. Bisogna mettere fine a questo scempio, bisogna che una politica siciliana ci dia la possibilità di avere un ufficio ARPA ad Agrigento, anche perché quegli uffici che sono dietro la Banca d'Italia sono pieni di macchinari che costano milioni di euro. Io ne ho visti diversi e questi macchinari che costano milioni di euro, se non vengono usati per 3-4 mesi, li puoi buttare. Uno spreco di risorse incredibili con il fatto che oggi Panermo, ovviamente non si può occupare di Panermo, Agrigento e Trapani, perché sono stati nasciti solamente 4 gentri ARPA, Panermo, Catania, Ragusa e Siracusa, tu devi dare ad ogni capoglu di provincia un presidio importante. Per questo faccio un appello all'assessore Cordaro all'ambiente, alla deputata regionale di maggioranza Savarino, perché è importante che oggi si faccia squadra per sancire in principio che la Sicilia è un posto che deve contare sull'ambiente per ridurre i danni relativi all'inquinamento, ma soprattutto garantire veramente una transizione ecologica e sostenibile nel nostro paese. Quindi riapriamo i laboratori dell'ARPA anche ad Agrigento, una battaglia importantissima.